Taranto è il nostro giocatore più importante in questo momento, perché si aggiunge ad una squadra che è già molto forte. Noi stiamo lavorando per metterlo nelle condizioni di giocare al massimo delle sue possibilità. È la seconda città della Puglia, è una città che ha avuto in passato un ruolo enorme dal punto di vista economico, dal punto di vista civile, dal punto di vista anche culturale. Era un luogo molto importante e vedo che si sta riprendendo velocemente. Io mi applico nel limite delle mie competenze con grandissimo affetto e devo dire che io lo sento anche ricambiato, perché quando sono arrivato qui tanti anni fa era dura. Quindi è un affetto vero e siccome poi alla fine le persone campano di affetto, campano di stima in queste cose che sembrano passate di modo, ma che invece sono centrali, Taranto è una città leale, che se la tratti con sincerità e ce la metti tutta non ti chiede per forza il risultato, perché questo alle volte non è facile realizzarlo, però combatte e combatte in maniera straordinaria.